Risultato netto, cioè l'utile, più 66,5%. È forse questo il dato più eclatante dei conti di MFE Media for Europe, la holding di sviluppo internazionale di Mediaset, riferiti al primo trimestre 2024. Tutti i maggiori indicatori economici del gruppo portano un segno più. E se l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi aveva definito quello del 2023 un bilancio da incorniciare, la spinta di crescita sembra voler continuare anche quest'anno al di là di ogni previsione. Il contesto economico e geopolitico internazionale è ancora complicato, eppure Mediaset registra un nuovo sprint nella raccolta pubblicitaria. Nei primi quattro mesi dell'anno, a livello di gruppo, è cresciuta del 7,1%, un dato decisamente positivo. Abbiamo trovato un mercato molto tonico, aveva dichiarato al nostro TG5 Pier Silvio Berlusconi solo qualche settimana fa, definendolo un bel segnale per l'imprenditoria e per il paese. I numeri gli danno ragione e anche la borsa ne ha preso atto. Dall'inizio dell'anno il titolo MFE è cresciuto circa del 28%.